Un saluto a tutti gli ascoltatori di Cube Radio da Avamposto 31, la rubrica che tutte le settimane quotidianamente dai propri canali social vi informa sul mondo del fumetto e della cultura pop. Come sanno i nostri ascoltatori ogni settimana parliamo di un fumetto in compagnia dell'autore che l'ha realizzato ed è grande piacere per noi oggi avere come ospite Sergio Panello. Ciao Sergio! Ciao Andrea, saluto agli ascoltatori, buon pomeriggio! Grazie Sergio di essere con noi è un grande piacere averti collegato telefonicamente e perché finalmente, posso dire finalmente perché so quanta fatica ti è costato arrivare alla realizzazione di quest'opera, parliamo della tua graphic novel su un racconto di Lovecraft. Certo Andrea, ascolta, il lavoro è iniziato due anni fa in realtà, è stata un'idea mia, un progetto mio legato al secondo racconto della raccolta, quello che ho scritto io, Sara, proposto l'editore e l'editore ha avuto poi l'idea di associare al racconto altri due racconti lunghi di Lovecraft e lì ovviamente io sono stato molto felice, poi siamo partiti con gli studi iniziali, con i tavoli, le matite eccetera, approvate, abbiamo passato poi l'inchiostro e l'acquarello, che è la mia tecnica preferita per dare così un movimento e diciamo in qualche modo alludere anche al mistero dell'ignoto, no? Sì sì, assolutamente. Oggi noi celebriamo nei vari interventi della nostra rubrica gli 80 anni di Batman, che è un personaggio che molto deve alle atmosfere gotiche di letteratura come quella di Lovecraft, quindi ci sembrava particolarmente attinente parlare con te di questa tua opera. Opera in realtà a mio modo di vedere difficile perché i racconti di Lovecraft non sono proprio facili, scusa il gioco di parole, da tradurre in termini visivi, no? Hai perfettamente ragione Andrea, e lì ti ripeto è stato veramente l'acquarello, insisto, che mi ha suggerito delle soluzioni anche direi in qualche modo per quanto mi riguarda possibilmente poetiche legate in realtà al suo tipo di horror, tra virgolette, di Lovecraft visionario in un certo senso. E attraverso appunto questa tecnica penso si possa dare forma a questi concetti. Tra l'altro io in generale ho cercato in questo lavoro mio di applicare i principi, come dire, più pittorici al fumetto, cosa a cui tengo molto, in qualche modo meno grafici, più legati appunto a una valenza pittorica. Io nasco come pittore, solo da circa 6-7 anni mi dedico al fumetto, quindi ho cercato in qualche modo di introdurre appunto questo elemento nuovo per quanto mi riguarda. Noi stiamo in questo momento, mentre stiamo registrando questo tuo intervento, noi stiamo vedendole in sequenza le bellissime immagini della tua graphic novel e ti ringraziamo per la possibilità appunto di mostrarle ai nostri ascoltatori e devo dire che questa impostazione, questo approccio al fumetto che viene appunto dalla pittura ed è molto orientato a suggerire più delle emozioni, delle atmosfere che a descriverle in maniera perfettamente compiuta, però a mio modo di vedere è uno stile, un modo che molto si adatta a Lovecraft, che è uno scrittore che a modo suo quando scrive non ti dice tutto ma ti fa sentire un sacco di cose, no? Dici bene Andrea, suggerire più che descrivere, è un po' questo il concetto che tra l'altro è anche legato alla tecnica pittorica, perché appunto le immagini sono sì da un certo punto di vista realistiche, però anche in qualche modo lasciano alcuni spazi di interpretazione. Tra l'altro io sono molto legato alla pittura espressionista dell'Esca degli anni 30, degli anni 20, degli anni 10, del 900, la nuova oggettività tedesca e appunto considerando Lovecraft un'ottura, a mio parere, espressionista per certi versi, ho cercato di legare appunto la tecnica pittorica ai suoi temi, in questo senso penso fosse ideale per realizzare un'opera di questo tipo. Tra l'altro va detto che il racconto che poi dà il titolo alla raccolta, no? Che è quello della musica di Eric Zahn, a ben vedere la sua prima apparizione, la sua prima pubblicazione è del 22, no? Del secolo scorso, quindi proprio esattamente negli anni di quel tipo di pittura e di quel tipo di espressione artistica, quindi ci sta proprio, ecco, non so. Fatti Andrea, poi pensa, io personalmente sono molto legato al cinema espressionista, pensa a Murnau, il suo alterato, a un certo tipo di disegno, a Alfred Kubin, l'artista austriaco, visionario, Redon, l'artista simbolista francese, ecco, tutto questo, qua c'erano questi elementi artistici ed estetici in qualche modo hanno contribuito a far sì che l'opera venisse in questi termini. Ora ti dico, nelle intenzioni, poi non sta certo a me giudicare. No, beh, certo, ma è sempre così, ma il motivo per cui noi dedichiamo ogni settimana uno spazio a un fumetto e all'autore che l'ha realizzato è proprio perché è giusto e naturale che un qualsiasi appassionato acquisti un'opera, la legga, privo di qualsiasi considerazione, privo di qualsiasi giustificazione o spiegazione del contenuto e se la goda per quella che è. Però, secondo noi, è altrettanto bello, magari proprio se uno si è incuriosito, gli piace o vuole capire qualcosa di più, capire insieme all'autore quali sono stati le linee guida che hanno percorso l'opera, come si è arrivati a quel tipo di rappresentazione piuttosto che un'altra, è sempre un elemento, a nostro modo di vedere, di grande interesse. Io ti conosco da tempo, so che stavi lavorando da molto su questo tuo progetto e quindi proprio per questo mi fa particolarmente piacere che tu abbia lo spazio per poterlo raccontare e per poterlo spiegare meglio, insomma, agli ascoltatori. Te ringrazio molto Andrea, davvero. Tra l'altro hai notato in alcuni disegni il fatto è piuttosto sporco, per certi versi, o comunque, eh sì, poter dare questa sensazione di vissuto al racconto e alle immagini, insomma, che di, insomma, la capacità di appropriarsi dell'immagine e tradurla in forma realistica e dinamica per certi versi. E poi questo è l'obiettivo mio. Poi un'altra cosa a cui tengo molto è il cinema. Tu sai bene, sei un grande autore e quindi conosci bene il movimento di macchina, della vignita, della sceneggiatura, eccetera. E lì io adoro ovviamente Hitchcock, c'è il cinema suo, è meraviglioso e con molta modesta ho cercato di muovere appunto questa famigerata macchina finalizzata a far sì che la suspense aumentasse durante il racconto e portasse poi, no, al climax finale con l'immagine che poi è tipico dei racconti dell'Overclass, questa dinamica sua. Assolutamente sì, siamo proprio immersi nelle atmosfere, in questi nostri interventi, stiamo proprio immersi nelle atmosfere di quegli anni e non dimentichiamo che, scusami se ci torno, ma visto che è una celebrazione importante, Batman è appunto del 39 e di conseguenza non siamo molto lontani e siamo proprio nel pieno di questo tipo di espressione. Quindi la stessa figura del Joker, pare, sia stata ispirata da un film espressionista che si intitola The Smiling Man che, e quindi dimostra come poi tra l'altro tutte queste forme d'arte siano così fortemente collegate tra di loro e si influenzino continuamente l'una con l'altra. Tornando alla tua opera, devo dire, beh, un complimento alla casa editrice che ha avuto la capacità di supportarti in questo tuo progetto e di ampliarlo anche poi che inizialmente era più piccolo, no? Se non sbaglio. Certo, dici bene Andrea, in effetti devo molto anche io a Stefano Romanini e a Nicola Pesce, ovviamente i due artefici della Nicola Pesce editore, sono stati, non segnero mai di ringraziarli, hanno reso possibile questo progetto e mi hanno sostenuto e seguito nelle varie fasi, direi che non ho parole per ringraziarli a questo punto pubblicamente, grazie, grazie tante perché è stata un'operazione piuttosto complessa e davvero di una facile soluzione per quanto riguarda i racconti di Lovecraft soprattutto. Io ti auguro veramente che questo volume che è già in distribuzione, se non vado errato, è disponibile nei vari canali anche online e quindi invitiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori di darci un'occhiata, di vedere, di interessarsi. Spero sia per te l'inizio e ti dia la possibilità poi di proseguire questo cammino tutto tuo perché il modo in cui approcci il disegno e la narrazione è molto personale e io l'ho apprezzato fin dall'inizio proprio per questo motivo. Grazie mille Andrea, tra l'altro per me è importante realizzare appunto questo graphic novel perché vengo da un lavoro allegato, come tu sai, a laurea editoriale, cioè lancio storie scorso, al fumetto da Edicola. Popolare da Edicola chiamiamolo così. Popolare da Edicola, certo. Io sono convinto che possa, che il mio lavoro forse avrebbe avuto appunto una maggiore espressione, una maggiore caratterizzazione attraverso la graphic novel. E ora evidentemente, insomma, questa è la prima, cerchiamo di dare seguito. Bene, allora complimenti per questo debutto prestigioso, con alle spalle un autore e un genere letterario così importante. Non possiamo che ringraziarti veramente di cuore di essere stato qui con noi e ti auguriamo davvero, davvero con tutto il cuore, tanta fortuna e un grandissimo in bocca al lupo per la tua opera. Grazie di cuore Andrea, un carissimo saluto a te e alla redazione, alla radio e agli ascoltatori. Grazie, ciao Sergio, stacci bene, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao.